Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo contenuto di giornata, state tranquilli, state tranquilli, non commenterò azioni legate a cravate e quant'altro, chi vuol capire capisca, d'altra parte credo che determinate immagini parlino da sole. Voglio commentare con voi invece le freschissime parole rilasciate dal ministro dello sport Andrea Bodi che ha commentato la sentenza che momentaneamente ha condannato la Juventus a 15 punti di penalità. Lo dico subito, io stimo molto Bodi, credo che sia una figura di livello e sia anche una figura, se vogliamo, trasparente. Mi piace molto anche il fatto che Bodi si relazioni con noi comuni mortali anche sui social, d'altra parte credo che nel 2023 è quasi normale che un ministro debba addentrarsi nello specifico verso questo nuovo linguaggio, perché quello dei social è a tutti gli effetti un linguaggio che abbraccia soprattutto le nuove generazioni ma che rappresenta anche un mezzo di comunicazione, tra virgolette, innovativo, perché se parliamo per esempio di Twitter, parliamo di qualcosa che esiste a dieci anni e solamente adesso diventa a tutti gli effetti un mezzo di comunicazione, nel caso specifico questo social è anche una fonte, in tutti gli effetti, quantomeno io utilizzo Twitter per informarmi, seguo le fonti che ritengo più autorevoli sui vari temi che mi interessano. È chiaro che poi non bisognerebbe dare credito alla cialtronagine acuta, ma questo è un altro tema, ma ribadisco, rispetto profondamente. Andrea Bodi che ha detto sostanzialmente c'è un'esigenza che deve essere soddisfatta perché spiegare è importante quanto decidere, aspetto le motivazioni, chi ha la responsabilità spieghi questa decisione e perché non ne sono state prese altre. C'è una responsabilità politica di cambiare le regole, ha proseguito a Bodi nel rispetto all'autonomia dello sport perché i fenomeni degenerativi vengono limitati e limitata sia l'interpretazione di questi fatti. Noi vogliamo comunque che lo sport sia trasparente, efficiente e dignitoso e punti alla credibilità e alla reputazione. Quello che sta succedendo non contribuisce a questi obiettivi, è probabile che io debba proporre un intervento per il miglioramento della trasparenza, dell'efficienza della giustizia sportiva e dei modelli di gestione dello sport professionistico. Ha concluso a Bodi con un augurio, mi auguro comunque che tutto non diventi una questione di tifo, diventando quasi una partita di calcio dove le squadre sono contrapposte, anche se capisco che i tifosi la vivano così. Allora, è una dichiarazione in pieno politichese, d'altra parte stiamo parlando del ministro dello sport, ma il sottotitolo è quello, ovvero chi ha la responsabilità spieghi questa decisione e perché non ne sono state prese altre. Mi sembra che tra tutto il politichese che sta emergendo nelle ultime ore, le dichiarazioni di a Bodi siano quelle più lucide. Ovviamente a Bodi non può cavalcare un partito, non può cavalcare l'altro partito, deve cavalcare poi in teoria, ma anche in pratica l'essenza della sua carica, cioè tutelare lo sport, quello nostrano, quello italiano. Ma il fatto che quantomeno sia lì, con un virgolettato che si può anche riassumere con, attendo le motivazioni della sentenza, mi sembra che sostanzialmente possa anche passare come messaggio e che possa essere anche accettato. In questa fase ovviamente il tifoso giuventino è incazzato nero perché sente di essere stato trattato in maniera speciale, nell'accezione negativa del termine, nella fotografia negativa di questa sentenza. Però quando a Bodi dice che ha la responsabilità spieghi questa decisione, questa decisione verrà spiegata nelle motivazioni che entro fine mese dovrebbero arrivare. Abbiamo sentito anche le parole della D della Juventus Scannavino ieri e là si disputerà poi una partita che vedrà la Juventus ovviamente fare ricorso come già preannunciato al CONI. Il clima, oggi sono stati in giro, ho avuto modo di parlare con tante persone, è chiaro che poi quando si va nei bar e quando viene cavalcata l'onda, il sentimento popolare, l'equazione è molto semplice. La Juventus ruba, la Juventus rubava, la Juventus ruberà perché tanto sarà sempre questo il messaggio che vorrà far passare l'antijuventinismo acuto. Io dico sempre che poi se qualcuno ha sbagliato è che si chiami Juve, è che si chiami un'altra squadra, è sacrosanto che emerga la verità al 100% e che chi ha eventualmente sbagliato in termini di soggetti poi si assuma le proprie responsabilità e paghi. Questo è un concetto che io spiego da sempre, non ne faccio una questione di Juventus ma ne faccio anche una questione di sistema perché se qualcuno ha sbagliato alla Juve è giusto che paghi ma il trattamento deve essere uguale per tutti. È qua che si disputa la partita ed è qua che il tifoso bianconero, quello medio, alimenta i suoi dubbi. Nei prossimi giorni andremo un pochettino più dentro i tecnicismi, cioè analizzeremo quali saranno le mosse, cosa può fare la Juventus, chi sono i legali che in questo momento stanno cercando di tutelare gli interessi del mondo bianconero e in generale proverò a invitare anche su questo canale qualcuno che se ne occupi H24 perché io sono un cronista sportivo, non ho nozioni di giudiziaria e anche per quanto riguarda la politica calcistica ci sono persone infinitamente più preparate del sottoscritto. Però, come molti di voi, sto cercando di crearmi una cultura, documentandomi, studiando, leggendo articoli poi basati non sulla faziosità, cioè testi che possano raccontare quanto sia succedendo perché poi credo che in questo momento il giornalista che si occupa di questo caso non debba dare interpretazioni ma anche meno debba attifare, altrimenti non sarebbe giornalista e dovrebbe fare l'ultra in curva. Bisogna fare cronaca e con la stessa bisogna cercare di capire il percorso, il percorso legale e come si sta tutelando la Juventus, sebbene anche lo stesso Scanavino ieri abbia fatto un quadro abbastanza chiaro. Voglio anche sapere il vostro punto di vista proprio sulle parole rilasciate dalla D della Juventus ieri prima che iniziasse la sfida con l'Atalanta, rilasciate parole a Dazon, perché mi sembra che sia stato molto chiaro, giustamente Scanavino poi si è dissociato da tutti quei messaggi orribili che non hanno motivo di esistere in confronto di chiunque perché dobbiamo anche essere abbastanza lucidi, è chiaro che la Juve deve difendere i suoi interessi, deve difendere i suoi tifosi, credo che Ferrero poi quando sia stato presentato in qualità di presidente della Juventus abbia detto difenderci senza arroganza, ecco. Diciamo che secondo me alle volte essere arroganti non guasterebbe perché mettere la testa sotto la sabbia non sempre credo sia cosa buona e giusta, ma sicuramente non si possono leggere Milacci di morte, Milacci in generale, questo non fa parte dello stile, ma no Juventus, di saper vivere, quindi concordo con Scanavino, però bisogna essere anche forti tra i confini dell'educazione a cercare la verità, a rendere nota la verità e a fare in modo che non passi esclusivamente un messaggio, ovvero quello che sta passando, che la Juventus ha rubato, che la Juventus ruba e che la Juventus ruberà, perché mi sembra che buttarla così sia davvero buttarla in bacca, vi chiedo anche un commento sulle parole del ministro dello sport, è vero che vi avevo pronunciato questa mattina che oggi ci saremo addentrati al tema Francesco Calvo, che sostanzialmente è diventato il nuovo responsabile dell'area tecnica, dell'area sport. Juventus, appuntamento a domani mattina, perché comunque dobbiamo dare la precedenza alla cronaca, quando ci sono delle dichiarazioni così importanti, così interessanti, la scaletta cambia.